Ciao a tutti, io sono Max, H quello dei Funko, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovissimo video in cui parleremo di un'email di Funko Europe che è stata inviata in risposta ad un utente che pare confermi il restock di alcuni pop veramente veramente ricercati. Ma prima di cominciare vi ricordo di lasciare un like se questo video vi piacerà, di iscrivervi al canale e di seguirmi su tutti i social che trovate nei link qui sotto in descrizione. Inoltre vi ricordo che potete partecipare al nuovissimo format le vostre fan collezioni mandando un'email con 5 foto massimo della vostra collezione alla email quello dei Funko chiocciola gmail.com. Mi raccomando foto meno sfocate possibili e soprattutto senza volti più che altro per una questione di privacy. Nella mail che mi invierete mandatemi anche un nominativo tipo Max da Milano così che io possa identificarvi. Lascio comunque tutto scritto nella descrizione di questo video. Da Instagram circa due settimane fa avevo trovato questa immagine che metto qui sul profilo di uno youtuber sempre a tema Funko che seguo e ringrazio tantissimo per la preziosa informazione che ritrae appunto una email di risposta da Funko Europe ad un utente. Adesso vi traduco in maniera molto veloce ma chiara ciò che c'è scritto. Ciao ciccio frizzo grazie per la pazienza. Il nostro product manager ha consigliato. L'adesivo rappresenta il lancio originale della convention e a volte la richiesta è così elevata che decidiamo di eseguire produzioni oltre il lancio iniziale. Ci scusiamo per la confusione causata per qualsiasi domanda futura non esitate a contattarci. Come vedete dall'immagine il pop di fianco è un pop con bollino con exclusive quindi Funko farà stock di alcuni pop con questi bollini e qui sicuramente qualcuno avrà iniziato a storcere il nasino. Diciamo che i collezionisti semplici come me sarebbero contenti invece diciamo le persone che comunque acquistano Funko Pop esclusivi anche di questo tipo sicuramente sarebbero meno contenti anche perché comunque per loro risulta un investimento. E ovviamente sorge spontanea la domanda e se volete potete dirmi la vostra nei commenti qui sotto nel video. Ma è giusto che i pop con i bollini con exclusive vengano riprodotti? Vi ricordo che per bollino con exclusive intendo quei pop che sono diciamo un'edizione esclusiva di un evento tipo il San Diego Comic Con, New York Comic Con eccetera. Cosa ne penso io? Io penso che questa cosa a livello logico sia completamente sbagliata perché sostanzialmente e solitamente un oggetto collezionabile che viene reso disponibile come edizione limitata di un determinato evento dovrebbe rimanere come tale. E quindi se l'evento sia fisico sia online è in un determinato momento e con quelle scorte se riesci a prenderlo bene altrimenti ti attacchi. Penso che faccia parte del gioco. E' chiaro che se va sold out devi mettere in conto poi che dovrai acquistarlo da qualche privato o qualche reseller che è riuscito ad averlo ma dovrai mettere appunto in conto che dovrai pagarlo molto molto di più rispetto al prezzo di lancio. Penso sia una cosa normalissima. Facciamo l'esempio della Thousand Sunny Pop Ride di One Piece che vediamo nella foto. Io ad oggi per quel pop sarei disposto a spendere molto molto di più rispetto diciamo al prezzo di lancio che mi pare si aggirasse intorno ai 35 euro possibile. Magari se sbaglio scrivetemelo nei commenti. Adesso sicuramente se mi va bene spenderei almeno 100 euro anche più verso i 200 secondo me. E' un pop che desidero fortemente come ad esempio anche la Polartang di Trafalgar Law. Sono pop che sono stati distribuiti appunto in queste convention e in maniera completamente limitata. Ci sta che dopo un po' di tempo questi oggetti comunque abbiano acquistato del valore. Mi sembra assolutamente normale e quindi io diciamo che metto in conto appunto di spendere qualche soldino in più perché comunque è una cosa che desidero fortemente avere nella mia collezione. Magari non tutti sono disposti a spendere quelle cifre. Io in questo caso visto diciamo come sta andando adesso io diciamo un pensiero me l'ero fatto e quindi appunto come ho già detto prima li spenderei. Ovviamente ammetto che dopo che mi è arrivata questa informazione diciamo che un pochino non è che ho fatto un passo indietro perché comunque alla fine dico vabbè se lo prende poi fanno restock dico vabbè pace la prossima volta aspetto. Poi la volta dopo che aspetto non li fanno più e aspetto in eterno. Funziona sempre sempre così. Detto ciò se Funko Europe facesse restock domani io ammetto che comunque ci tenterei perché sicuramente non vado a spendere 150 barra 200 euro. Si mi va bene anche perché adesso sicuramente il prezzo si sarà alzato. Se facessero restock il motivo per cui ci tenterei sarebbe puramente economico e quindi per risparmiare qualche soldino e penso che sia normalissimo. Chiaramente non c'è nulla ancora di confermato. Io sono sempre vigile e sull'alt chi va là ma come potete vedere dall'email che avete visto prima. Funko Europe ha espresso proprio in maniera plateale la volontà che se la richiesta sarà alta faranno il restock anche di questi pop con bollino con exclusive. Io non so esattamente su che parametro basino il fatto della richiesta alta o meno però comunque la volontà c'è e sicuramente se lo faranno è perché gli conviene. Detto ciò cari amici io ho voluto fare questo video più che altro per informarvi di questa possibilità futura e anche remota da un certo punto di vista perché come ho già detto non c'è nulla di confermato e soprattutto ragazzi non è detto che questo fantomatico restock venga fatto anche in Europa nonostante ci sia di mezzo Funko Europe. Potrebbe anche essere che alla fine era tutta una sola e praticamente il restock lo faranno solo oltreoceano quindi in America e da noi Nisba. Io chiaramente ci spero e ricordatevi ragazzi che appena saprò qualcosa di più su questo argomento sarete i primi a saperlo come sempre. Detto ciò questo video termina qui e vi rinnovo l'invito a farmi sapere cosa ne pensate a riguardo nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio di cuore come sempre per la visione e soprattutto per il supporto che date al canale. Vi mando un grandissimo abbraccio a tutti quanti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!